Il Presidente della Regione Lazio e Commissario per la Sanità, Nicola Zingaretti, ha firmato il decreto per il Governo delle liste di attesa. Spetta ora le ASL il compito di elaborare in 60 giorni i piani attuativi e aziendali in modo che da gennaio possono essere operativi. L'obiettivo è quello di riportare i tempi di erogazione di un esame entro quelli indicati dal Piano Nazionale per le liste di attesa. Il provvedimento riguarda 14 diversi tipi di visite specialistiche e 29 prestazioni di diagnostica strumentale. Tra queste ci sono la visita cardiologica, oncologica, neurologica, ginecologica e gli esami di risonanza magnetica e TAC. Le prestazioni che i medici definiranno urgenti dovranno essere erogate entro 72 ore e saranno contrassegnate con la lettera U. L'esame che nell'impegnativa sarà contrassegnato con la lettera B dovrà invece essere erogato entro 10 giorni. Per quanto riguarda le prestazioni differibili, cioè rimandabili, riconoscibili con la lettera D, le visite dovranno essere assicurate entro 20 giorni, mentre gli accertamenti diagnostici dovranno essere assicurati entro 60 giorni. Se l'azienda sanitaria non renderà disponibile la prestazione nei tempi stabiliti, prevede il decreto, dovrà assumere un'alternativa. Il programma stabilisce anche il potenziamento del sistema di prenotazione diretta da parte dei medici di medicina generale nel caso di esame urgente, in modo che possa essere eseguito entro 72 ore.